Si chiude con una sconfitta la seconda in due gare, amichevoli il ritiro turco della Salernitana dallo 3-0 subito ad opera del Fenerbahce al 3-1 incassato da parte della Lagna Sport di Farioli tecnico italiano della squadra padrona di casa. La Salernitana era partita bene questo pomeriggio con il gol di Bonazzoli al nono sul cross di Bradaric dalla sinistra, aveva sbloccato così risultato la squadra di Ravenicola schieratasi ancora con il 3-5-2 con Vilena in mezzo al campo insieme a Boinen e a Capezzi con Bradaric e Sambia confermate sugli esterni e Valenzi accanto a Bonazzoli la difesa a tre con Radovanovic al centro fra Lovato e Fazio e Mikai tra i pali vista anche l'indisponibilità di Fiorillo comunque in panchina. Salernitana che ha cominciato bene ma poi pian piano ha subito il ritorno della Lagna Sport che ha cominciato a tessere il suo gioco, la squadra di Nicola si è abbassata un po' troppo non riuscendo poi ad emergere dalle basse delle zone di campo più vicine alla sua area di rigore e quindi poi il fraseggio si perdeva inevitabilmente al ridosso della metà campo con i Granata che cercavano palloni in verticale filtranti sui quali però gli attaccanti si trovavano quasi sempre a mal partito. Era arrivato anche il gol della Lagna Sport poco dopo il ventesimo minuto a ristabilire la parità e a punire una difesa Granata impreparata, sorpresa, tagliata completamente fuori dal movimento di un esterno che ha poi messo il pallone al centro per Ahmed Hassan che ha fatto centro da due passi. Un primo tempo chiuso in parità con Mikai che ha sventato anche il potenziale 2-1 dei padroni di casa ma la ripresa si è aperta con il vantaggio dei turchi con il proprio capitano che ha raccolto sugli sviluppi di un corner un pallone da due passi e lo ha spedito in rete alle spalle di un incolpevole ed impotente Mikai con Koulibaly fra l'altro insomma in questa situazione fattosi trovare impreparato. Il Maliano ha perso il diretto avversario che sulla spizzata da un palo all'altro è riuscito a precederlo e a depositare in rete poi una lunga fase in cui la squadra di Nikola con i cambi quindi molto rivisitata ha pure provato ad alzare un po' il baricentro sfruttando anche la presenza di Botheim per trovare soluzioni nuove soprattutto con i lanci per il calciatore norvegese che doveva fare da sponda per Valencia e poi per Christoffer se l'entrato nel finale e per gli altri compagni ma insomma nonostante qualche tentativo la solidarietà non è riuscita mai davvero di impensirire il portiere avversario e poi praticamente all'ospirale della partita la colossale disattenzione di Motok su un pallone in noco ha perso palla il difensore Moldavo consegnandola agli avversari con Dumbia che poi ha fatto secco Mikai anche stavolta impotente quanto tagliato completamente fuori dalla possibilità di poter intervenire finiva 3-1 con qualche disappunto per l'errore del giovane compagno anche da parte di qualcuno dei calciatori più esperti della squadra Granata che lascia la Turchia con due sconfitte l'infortunio di Maggiore non troppe certezze anche relative alle prestazioni di Sambia in particolare e più in generale anche con un gioco che non ha convinto più di tanto ma probabilmente un po' i carichi di lavoro un po' le prove e il fatto che alcuni dei titolari non fossero disponibili o per infortunio perché impegnati ai recenti mondiali hanno in qualche modo condizionato il lavoro della squadra Granata che riprenderà ora in sede e ovviamente su questo lavoro è stato anche il discorso mercato perché per la ripresa del campionato ci saranno delle defezioni sicure quelle di Sepe, di Mazzocchi, di Candreva e di Maggiore qualcuno dei giocatori radici del Mondiale riprenderà ad allenarsi in questi giorni qualcuno la prossima settimana però la squadra andrà sicuramente integrata per poter essere competitiva già alla ripresa visto il calendario anche abbastanza impegnativo con Milan, Torino, Atalanta e Napoli all'orizzonte e comunque dalla Turchia la Senetana torna con due sconfitte e l'infortunio di Maggiore è a fare da nota ulteriormente stonata e ora la preparazione riprende a Salerno